Restiamo in stand-by a circa 16 miglia dall'isola di Lampedusa. Via Twitter arriva la comunicazione della Sea-Watch che ribadisce la ferma volontà di non riportare in Libia le 53 persone di cui 5 bambini soccorsi due giorni fa in mezzo al Mediterraneo. Malgrado l'indicazione di fare rotta verso il porto di Tripoli, ritenuto sicuro dalle autorità italiane, la nave dell'ONG ha deciso di fermarsi a largo di Lampedusa, il porto sicuro più vicino alla posizione del soccorso. Nel frattempo prosegue il braccio di ferro con il ministro dell'interno Matteo Salvini. Sicuramente non arrivano in Italia perché per fesso non mi prendono e perché usano gli esseri umani per loro indegni interessi politici, non so se economici ma sicuramente politici. Da Bruxelles al titolare del Viminale risponde Natasha Bertot, portavoce della Commissione europea che sottolinea come attualmente in Libia non ci siano le condizioni di sicurezza. Sempre Salvini poi punta il dito contro la procura di Agrigento che potrebbe anche questa volta far attraccare la nave, sequestrarla e poi dissequestrarla come già avvenuto. Salvini dice che se questo accade va a piedi ad Agrigento.